Il maltempo imperterrito continua in Sicilia e in alcune zone la neve si è fatta sentire, ma soprattutto si fa sentire il ghiaccio. Quando la neve va via rimangono le lastre di ghiaccio. È importante quando ci si mette sulle strade e in alcune zone la neve è presente, tenere sotto controllo e in ottima condizione e assetto la propria auto, come per esempio controllare lo stato dei tergi cristalli, verificare la pressione delle gomme, avere le catene in alcune zone per essere percorribili sono obbligatorie, avere anche le gomme chiodate, poi mettere a posto le luci, il suo funzionamento, controllare la meccanica, l'olio, le cinghie per le auto e la batteria, ma soprattutto il riscaldamento, lo svinamento del lunotto e avere con sé sempre un kit d'emergenza per poter intervenire, quantomeno fin dove è possibile sulla propria auto. Oltre alle gomme da neve, poi nel caso ci dovesse essere neve e ghiaccio sulle strade, sapere cosa fare in caso di emergenza quando l'auto per esempio si ferma, non allontanarsi dall'auto se non si sa esattamente in che punto ci si trova e qual è il primo punto di soccorso, chiamare le forze dell'ordine che spesso in questi giorni sono intervenuti nelle strade, nelle zone innevate e cercare di chiamare un familiare o qualcuno che possa nel caso prestare soccorso. La cosa più importante è ricordarsi sempre che nei luoghi dove è caduta la neve, quando la neve scompare rimangono le lastre di ghiaccio soprattutto ai bordi delle strade che non sono visibili spesso dall'automobilista ma sono percepite dalle gomme. Il rischio incidente è sempre dietro la porta.